Eccomi! Dove stiamo andando? Nottenchino Nottenchino Quest'idea di video è solo grazie a me Perché se no lui Dateci dei consigli anche Che video vorreste vedere in futuro Io gli consiglio di fare i vlog Ma lui non mi ascolta Quindi fatemi sapere se anche voi volete vedere più vlog Anche della vita quotidiana Eccetera Buono siamo arrivati al parcheggio Adesso direi di partire con gli scatti Facciamo un po' di corsa Giusto un po' di movimento Allora facciamo prima un po' di corsetta leggera E dopo partiamo anche con un po' di scatti Allora facciamo prima un po' di scatti Let's go Yeah I'm the one to get it bro I swear to god I'll get it bro Hey I ain't never giving up Yeah I never can't fall Fake it till I'm making Motherfucking take it Take it back from these haters Playing tracks for the traitors Got the passion and that's when it happens Back shit take action Draft in their captain Dobbiamo arrivare in qualche posto qua Oh guarda Le mucche Le mucche Rip Comunque ieri c'erano le frecce tricolori a Bolzano Io non l'ho vista Voi l'avete vista? Perché Bolzano mamma mia Io l'ho vista tanta roba Bello però Molto bello C'è uno sguardo Mi sta guardando malissimo Si capiscono secondo me Tra animali ci si capisce Oh no no io dì Ciao Aspetta Non mi sapeva quanto contenti Si Prima di me nella sua testa dice Non darmi i posti giù No non è vero No che paglia di malisti giù Vieni a fare scatti Insieme Ne avresti bisogno Non si può dire Adesso facciamo ultimi due scatti su questa rampa Che poi c'è il sentiero Dopo vediamo se c'è ancora un po' di spazio nel sentiero Capito? Oh no ci si è presa quattro mosche con la lingua Si è mangiata quattro mosche con Riccardo e gli animali Dovete sapere che Riccardo ha una passione per gli animali Infatti se riusciamo vi metto qua tutte le clip Dove Riccardo ha degli incontri con gli animali Oh no È grande È grande Non riesce Non riesce Non riesce No non darmelo No Dopo non sono già più vivo Bene di chi è colpa di Riccardo ha terminato un passatino di pavio e non se ne vanno più Potete andare bene per favore Guarda che si riattaccano Loro si che fanno la bella vita Eh si guardate che prato che hanno Guardate dove vivono In questa meraviglia Di posto Oh questa meraviglia Vai 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 Bene adesso c'è una delle salite più ripide Però è tanto rimpida Di recupero sto tenendo un po' a caso proprio perché c'è lei fantastica che... Cosa vorresti dire? Bè Fantastica vero? No no cosa vorresti dire che ti rallento? Perché c'è lei fantastica che mi segue quindi riesce a farmi i video altrimenti non potrei Mettete like Quindi faccio lo scatto Lei va su Tanno giù Rifaccio lo scatto E continuiamo a far su e giù Su e giù Scatti scatti E anche per fare le doppie riprese Fatemi sapere se vi interesserebbe un backstage Di questo tipo di video Perché sarebbe divertente Dai Adesso partiamo con lo scatto Ora ho fatto il primo pezzo di scatto Sono sceso Dai sale un pezzettino E rifacciamo lo scatto E va bene bene dai Volevi eh Fare il canale di sport Potevi fare il canale di Moonback Non so Cosa? Quelli che mangiamo Ma dai McBank scusate Che se no qua mi prendono in giro per la pronuncia E lo faccio per voi 398 iscritti Il 26 settembre è comunque la data di questo video Tra cui 10 tuoi Tra cui 10 miei account 10 miei account 5 suoi 3 di mia mamma 4 di mia mamma Iscrivetevi iscrivetevi Fateci sapere se siete Dei nuovi scatti Ci mettiamo tanto impegno Esatto Cosa si fa così? Così Molto bene Continuiamo Backstage Abbiamo già fatto questa salita due volte Adesso scendiamo una terza Così facciamo la ripresa di tutto Non so se rende Ragazzi che poi è ripidissimo Cioè Non so Non so come farvi le inquadrature Perché è davvero ripido Manca pochissimo Due o tre scatti E siamo arrivati Ottima corsetta Adesso hanno il primo No, no. E che dire, una volta non servono tante parole. Grazie per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e se vi va iscrivetevi che mi fa molto piacere. Se vi va lasciate anche un commento consigliandomi in qualche altro posto dove andare a fare corse, scatti, allenamenti vari. Allenatevi, credete sempre nei vostri sogni e nei vostri obiettivi che ce la potete fare e ci vediamo nel prossimo video. Ok. Sì. Sì. Sì Non gli ho spiegato che cos'è Notenchino No, neanche io so che cos'è Notenchino Ragazzi ho trovato una barra Una sbarra per far l'allenamento pure qua Basta Chicken McNuggets Ultimo scatto inserita su questo pezzo di terreno adesso Dove varia? Seguiteci su Instagram Riccardo.Gallesso Che la vi teniamo un po' più aggiornati Di Youtube Sembra Le mucche? Ripaga il panorama Esel C'è qualche problema di tedesco